La storia di Fatima. Canalizzazione 2. Lisbona, 13 settembre 2017. Vi saluto, miei cari. Io sono Crayon del servizio magnetico. Vi siete mai chiesti come sia dall'altro lato del velo? Miei cari, siete consapevoli che questo è l'altro lato? E che, quando non siete qui, voi siete a casa. Vi ho condotto in alcuni viaggi, prima, per aiutarvi a comprendere come potrebbe essere. C'è solo amore. Vi trovate in una realtà che non potete immaginare. È quasi come se una parte di voi si fosse riunita con lo stesso creatore. Avete udito la musica? Miei cari, altri canalizzatori hanno detto la stessa cosa. Quando riportano qualcosa che sembra così inconsueta per voi, c'è sempre della musica che suona, ma non è solo la musica che voi pensate. È quasi come se le stelle cantassero insieme, come se la luce cantasse, e tutto ha un'unica gloriosa melodia. E sebbene possiate udirla continuamente, è la musica di casa. Ci sono alcune cose che passano davvero attraverso il velo, incontaminate, e cantano al vostro cuore. E una di esse è la risata. Certamente ci sono l'amore e la compassione, e poi ci sono la musica e l'arte. È per questo che associate la musica, l'arte, la scultura con il divino, e che va sempre bene ed è ammesso avere grandi opere d'arte nei santuari e suonare della musica. Miei cari, dentro ciascuno di voi c'è una parte del creatore, potreste persino chiamarlo il Dio interiore. Alcuni di voi hanno identificato una parte di questo come la vostra anima, ma voi non comprendete veramente l'anima. È una parte di ciò che non è comprensibile. Alcuni di voi l'hanno chiamata il Sé superiore e direte, ma questa è una parte di me ed è divina. Alcuni di voi diranno, questo è il mio sistema di orientamento. Nessuna dottrina, solo amore intuitivo. È qui che ottengo tutte le informazioni. E avreste ragione. È anche parte dell'evoluzione dell'umanità, che poi si manifesterà nella natura umana. È da dove proverranno la nuova integrità e la saggezza. Alcuni chiedono da dove emaneranno? Da dove otterrò nuova saggezza? Dove troverò compassione, quando prima non la trovavo? La parte dentro di voi che è il Creatore inizierà ad attivarsi a un livello molto superiore, vi mostrerà cose che prima non conoscevate, avrà un meraviglioso sistema di orientamento per voi. L'intuizione aumenterà, anche riguardo a cose che magari non potevate sapere. Da dove sono venute? Sono arrivate dal lato del velo dove mi trovo io. C'è una comunicazione tra il vostro Sé superiore e l'altro lato del velo, costantemente. E alcuni di voi stanno cominciando a sentire in modo diverso, perché mentre la luce sta cominciando a mostrarsi su questo pianeta, quella parte di voi si sta risvegliando. Miei cari, alcuni di voi stanno diventando molto più rilassati di quanto lo fossero prima, rispetto alle cose che abitualmente vi infastidivano, alle cose sulle quali non avevate alcun controllo. Alcune delle paure che eravate abituati ad avere stanno cominciando a ridursi. Questa è evoluzione ed è di questo che parliamo, dell'evoluzione dell'anima umana. Pensate per un momento a che cosa ciò potrebbe significare per voi. È possibile che questo vi consentirà di vedere cose che gli altri non possono? È già così. A volte con i vostri occhi, e a volte con la vostra saggezza e il vostro cuore. Questo è spesso ciò che vi separa dalla vostra famiglia biologica di origine. Alcune di voi, anime antiche, sono partite per un viaggio da sole. Avete lasciato andare tutto il karma che avevate con la vostra famiglia biologica di origine e siete uscite da quel cerchio. E sapete di chi sto parlando. Miei cari, io so chi c'è qui. E ora avete una nuova famiglia. Ma dovete tornare indietro a visitare la famiglia biologica di tanto in tanto. Potete dire loro ciò che sapete? Potete dire loro ciò che percepite? Anche essi continuano a vivere in una scatola, la scatola del loro apprendimento, delle loro credenze, di ciò che è stato loro detto riguardo a chi è Dio. E voi siete lì, sapendo che Dio è più grande di qualsiasi cosa nella loro scatola. È come se voi aveste acceso una luce che loro non hanno. E quando voi gliene parlate, che cosa fanno? Vi colpiscono in testa? Sì, certo. Così tornerete a posto. Vi trattano come un bambino che si è smarrito. In altre parole, sembrate loro degli sciocchi, dei visionari. E poi quando ve ne andate, rotano gli occhi, l'ha fatto di nuovo. Spero che troverà la propria strada un giorno. Che cos'è accaduto? Questo è ciò che vi abbiamo già detto. Ci saranno oscurità e luce su questo pianeta e vedrete cose e saprete cose che gli altri non sono in grado e non potranno. È possibile? Voglio farvi un esempio. Non è una cosa nuova. Vi ricordate che ho parlato di Lucia? Vi ricordate quando vi ho detto perché fu scelto un bambino? Perché il bambino non ha alcuna abitudine o formazione riguardo a ciò che si suppone non si possa vedere. E quindi Lucia era pura e pronta ed era pura e pronta a ricevere l'amore che lei sentiva essere la Vergine Maria. Ne era convinta. Che cosa è davvero accaduto a più di 30.000 persone riunitesi insieme per vedere ciò che è chiamato il Miracolo del Sole? Ci fu un miracolo? Sì, ci fu. E lo videro tutti? No, non lo fecero. Infatti, lo videro davvero in pochi. E alcuni affermarono che il Sole eroteò. Alcuni dissero che fu davvero rimosso da dove si trovava e spostato in un'altra zona del Cielo. Alcuni dissero che si spostò avanti e indietro. E la maggior parte disse che non fece nulla. Miei cari, che cosa è successo? Ciò che è accaduto è che vedete ciò che vi è concesso di vedere dalla vostra stessa scatola. L'ho già detto in precedenza. Se venite formati in una credenza, anche se quella credenza inizia a cambiare, voi credete e solo a ciò che vi è stato insegnato a credere. È radicato in voi come un'abitudine. E se qualcuno viene da voi con una grande luce e vi dice guarda. Posso rendere la tua scatola molto, molto più bella. Guarda questa luce. È Dio. Tu credi a un Dio in una scatola, ma Dio è dappertutto. E loro vi guardano e dicono. Non c'è nessuna luce, perché loro non riescono a vederla. Ecco che cosa è accaduto un centinaio di anni fa. Un centinaio di anni fa. E quindi ci sono stati alti e bassi di illuminazione e di dare il permesso per moltissimo tempo, ma improvvisamente il pianeta stesso sta cominciando a essere più luminoso. Per molti sarà disorientante, perché cominceranno a sentire in modo diverso. Il loro Akash potrebbe davvero risvegliarsi e potrebbero iniziare a ricordare un poco chi sono stati. E questo non collimerà con la loro scatola di credenze. Creerà negazione, disfunzione ed è qui che subentrate voi. Miei cari, l'anima antica non è qui per evangelizzare, siete qui per equilibrare. E quando gli altri cominceranno a venire da voi a farvi delle domande, quando diranno. Non sono più così sicuro di tutto questo, la cosa migliore che possiate fare è di ascoltarli e di amarli, perché è questo che fanno i maestri. Si siederanno lì e ascolteranno la vostra luce, paragoneranno la vostra compassione con quelli che sono responsabili della loro scatola e cominceranno a vedere qualcosa di straordinario. C'è più compassione cristica dentro di voi che in chiunque con una tonaca, perché la vostra arriva pura dalla sorgente, senza alcun costrutto intorno a essa che possa umanizzare Dio. Questa è la verità di oggi. Lucia vide. Lei vide l'intero miracolo ed essendo una bambina, pensò che tutti l'avessero visto. Lei rimase scioccata, quando si seppe la notizia. A molti non era accaduto. Che cosa pensa un bambino? Come avrebbero potuto non vedere ciò che era accaduto? Questo la accompagnò per tutta la sua vita. Nella prossima canalizzazione vi parlerò un po' della profezia. È davvero interessante che un angelo trasmetta a una bambina delle profezie riguardo alle cose oscure, ma fu la bambina che le ricordò tutte e che non aveva alcuna informazione preimpostata riguardo a ciò che l'angelo potesse intendere. Non poteva. È l'innocenza del bambino, che è la cosa più pura che l'angelo sapeva essere lì. Il bambino interiore che tutti voi avete è Lucia. E più le vostre vibrazioni si elevano, verso il Dio interiore, più l'innocenza emergerà, cancellando le cose inadeguate che vi sono state insegnate, più sarete vicini alle verità che vedete. E la verità? Dio è bene, Dio è amore, Dio è benevolente, Dio conosce il vostro nome. E una parte di voi è parte dell'altro lato del velo. Quando tornate a casa, di nuovo, riconoscete la musica. Lo fate ogni volta. È la cosa più bella che possiate immaginare. E quindi questa particolare canalizzazione è semplicemente un'affermazione che dice che voi potreste trovarvi in una stanza buia e potreste accendere una torcia e chi si trova a fianco a voi potrebbe non vederla mai. Ha a che fare con la coscienza, con il permettere, con le credenze. Tutti voi avete il libero arbitrio, ma ci vorrà molto tempo perché voi capiate che cosa potrebbe succedere con la vostra luce a quelli intorno a voi. Entrerete in una fila di esseri umani pieni di luce. Voi sarete pieni di luce. E tutto ciò che farete sarà irritarli. Potrebbero persino additarvi e dire non sappiamo che cosa c'è che non va qui, ma devi essere tu. È meglio che te ne vai. Non vedranno mai la luce. Ne saranno solo irritati, perché la loro scatola buia è tutto ciò che abbiano mai conosciuto. Questo sta cambiando, perché l'oscurità non può più esistere, in nessuna di quelle scatole. Sta sorgendo così tanta luce sul pianeta, in un modo così bello e benevolo. Le regole inizieranno a cambiare. Quando il sole spunterà, come dite voi, l'oscurità, e ogni di oscurità, se ne andranno e finalmente il sole inizierà a uscire, e vedrete moltissime cose che non avete mai visto prima. Miei cari, la compassione è la chiave e comincerete a sentirla sempre di più verso gli altri. Le persone vedranno in voi la gentilezza dello spirito. Namastè significherà qualcosa e magari qualcosa di più di un semplice saluto. Il Dio dentro di me saluta il Dio dentro di te. E questa è l'evoluzione umana. È abbastanza per ora. Altro arriverà. E così è.